A parte che con questo virus qui, anche Berlusconi ha sentito che ha avuto molti problemi. Io ho avuto una notizia in anteprima, mi ha detto che quando è entrato all'ospedale, bisogna fare una lastra. Loro ha detto ai polmoni, dice no, 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 una lastra di marmo. C'è anche un bambino che ha telefonato ieri per un giorno in scuola, aveva il telefono e ho detto papà, non importa che mi vedi a prendere, perché vengo a casa io da solo con il banco mobile. Ma è rotto, non è problema. Quanto è più carenze, non è problema. Comunque andiamo Laura con la stasana dei notizieri, vado, il cuore è pronto? Il cuore è prontissimo. Vado, vengono qua, mi è come un sosmer. Ti vuole vincere, non sa neanche a dire. Ogni stasana li ha dei soffieri e proprio quattro. Le la stasano, da notizieri, senti che cosa, da notizieri. Quanto in casa accende tre e prende due senza incare e davvero fuori altri blu reri, Ma teniamo voglia di provare, per fortuna, che adesso è a notizieri, a notizieri. In mesi quando a festeggiare, una bella torta vrà in maniera, al nostro spazio non ha avuto l'orario, ma con la stossia spensa il duello, sta attento che adesso è a notizieri, a notizieri. Tutti hanno una feina sigla, per la nuova, la trasmissione, admi ten e non vincere, per fare figura e la guardia. Venti qua, niente come un sossme, che vuole niente, senza neanche dire, ogni stasione, a ria il suo spazio non ha avuto l'orario, ma con la stossia spensa il duello, vanno che i sieri, vanno che i sieri. Ancora, verso i guani e come un sossme, che vuole niente, senza neanche dire, ogni stasione, a ria il suo spazio non ha avuto l'orario, ma con la stossia spensa il duello, e proprio quattro, nella stasione, vanno che i sieri, vanno che i sieri. La notizieri, vanno che i sieri. Oh, lo sim? Le belle fatte. Una roba da questura questa qui, per schiamarti notturni e diurni. Eh, forse diurni.